Ciao a tutti, questo è Pite, ed è il mio show Intervista a persone davvero interessanti, scopritele con noi Bambini e bambine, ragazzi e ragazze, signori e signore Oggi qui con noi abbiamo una star del cinema internazionale Infatti è venuto nel nostro studio Gio Mento Grazie Treca, sono felicissimo di essere qui Il piacere è tutto mio Senti Joe, abbiamo un piccolo video che racconta la storia della tua vita Vogliamo vederlo insieme? Sì, va bene Facciamolo partire allora Gio Mento nasce il 19 luglio del 78 a New York Da genitori italiani emigrati in America Studia l'incitazione alla Julia School Ricoprendo, nel frattempo, piccole comparse in alcuni film Nel 2005 conosce Quentin Tarantino Con il quale instaurerà una grande amicizia Arriva così la grande occasione per Joe Infatti regiderà in Bastardi Senza Gloria Vincendo il premio come miglior attore non protagonista Da fine avanti diventa tutto più semplice Vincerà infatti tre Oscar come miglior attore protagonista Nel 2015 con La Toria del Tutto Nel 2016 con Revenant E nel 2020 con Joker Ad oggi è sposato con Jenny Fermento Con la quale ha avuto due splendidi figli Ce l'abbiamo un pazzoletto Davvero, davvero emozionante Sì, davvero molto toccante Senti show, io ti ringrazio Grazie a te Per essere stato nostro ostri Ciao, alla prossima Arrivederci Ciao a tutti, grazie Bravissimo